Non so cosa dire, a me nessuno mi ha detto una cosa del genere. Io ho un continuo dialogo con le istituzioni sui problemi, penso che abbiamo un governo, un Presidente del Consiglio, un Ministro degli Esteri, un Ministro degli Interni, un Ministro dell'Economia, a seconda delle questioni, l'Italia ha un governo nel pieno dei suoi poteri.